Siamo arrivati anche qua a chiamare vicino a me quella che è partita un po' male, razzolando e trovando anche la strada giusta. Lei comunque stasera si è fatta valere come si deve far valere una drag, signori, la Calimba. Eccola qua, eccola qua, eccola qua. Siamo arrivati alla semifinale, un po' stanche, un po' come ha detto la Dolores combattute e anche criticate, però è giusto che sia così. Tu cosa ne pensi di questo percorso che hai fatto fino adesso? Beh, interessante, bello, divertente perché oltre a essere un concorso è principalmente un gioco dove diciamo che si mette proprio tutto il personaggio nelle sue sfaccettature di ciò che sa fare ovviamente. che non si guarda la bellezza ma bensì il contenuto. E l'ultima sera sarà giudicata anche la bellezza, quindi mi raccomando, noi faremo sempre i nostri percorsi come abbiamo fatto fino adesso in maniera molto più. Io ti ringrazio e chiamo la tua compagna di avventura, che è quella che ci ha dato filo da torcere, la nostra amica magnifica. Lo dico così perché sono... ecco, sta zitta perché ti mando a quel... oddio si ammazza. Allora, anche per te tesoro, abbiamo fatto un percorso di amicizia, abbiamo fatto un percorso di gioco artistico, hai visto i coach e soprattutto la giuria, in che modo ti ha valutato e questo sono veramente felicissimo. E tu invece che cosa hai da dire? Allora, come dico sempre, per la mia venerante età mi sto divertendo un sacco, sono contento di aver fatto questa esperienza, ripeto, sarà banale, ma ripeto, grazie a te perché ci hai fatto crescere, perché noi eramo abituati ai locali, invece tu ci hai portati in teatro e siamo ultra che contentissimi. E niente, aspettiamo il 19 che daremo il massimo, più pazzi di prima. E votate le squadre da oro. Ecco, dopo questa io esco.